ciao amici benvenuti in questo nuovo video oggi siamo qua su never alone come ogni domenica alle 10 e mezza ho in compagnia di mio padre ciao c'è la bomba in bocca appunto io non so tanto poter adesso ma non importa praticamente nello scorso episodio abbiamo finito il dlc foctaless il dlc foctaless e quindi ora dobbiamo iniziare ovviamente la storia principale che abbiamo abbastanza saltato abbiamo abbiavolo saltato ecco appunto io non so i comandi e si ok quindi praticamente andiamo proprio a gioca nuova partita sì che tanto abbiamo soltanto provato infatti ci siamo scambiati i ruoli e si è posto i new piatt sono un popolo nativo dell'alaska che è riuscito a svilupparsi in uno dei più formidabili ambienti della terra scopri di più non mi interessa niente infatti appunto ci siamo scambiati posto ti racconterò una storia molto antica che ho ascoltato dal nasruk quando ero molto giovane si racconta che una fanciulla vivesse con la propria famiglia beh direi in uno luogo lontano da qui che carina la fanciulla amava la caccia e sapeva fare molte cose ah io già volevo prendere ma sicuramente ovviamente siamo avva la caccia c'è c'è un cervo una foca un po' crudele come cammina un giorno il villaggio fu colpito da una violenta bufera di neve seguì un'altra bufera di neve e poi un'altra bufera di neve e poi un'altra bufera di neve e la miseria sa amorendo nel villaggio non si poteva più cacciare come entravano in quelle tende gli abitanti dovessero affrontare la fame ma la fanciulla si chiese cosa quale fosse la causa del malteve e parti percorrere l'origine della bufera di neve ma va stai dicendo forse una perturbazione antartica scusa credo sia abbastanza normale tutto ciò va bene ok papino alla tastiera io questa volta al controlla siamo scambiati perché io volevo essere la volta assolutamente salto spazio la bufera di neve era inarrestabile e la fanciulla non arrivò molto lontano cosa sarebbe la prossima i genitori cioè prima che ancora perché ragazzi perché cioè tutto d'accordo va bene si è visto fino ad ora perché stai dicendo ciò oh mio caspiderella corriti vai 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 dove devo andare caspiderella bruciocchiata salta salta eh sì vabbè vandrà che sto rovo eh ma è un orso cosa cosa un orso marzicale ah 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 oh ci sono io dietro ci sono io ragazzi si sto venendo sto venendo wow wow scappa scappa fortunatamente non è molto agile questo orso ragazzi eh però è sempre salta lo stesso è sempre veloce vai vai cioè così tanto oh si è rotto il ghiaccio là addio addio corri corri papà addio eh non corre più di quello gli ha dato una spinta che spiderella e sono io vai wow wow ok è la prima di passare no sono io qui ok eccomi che devo fare io oh mio dio sto scappando wow wow salta salta ah ok ce l'abbiamo fatta posso passare oh ok ah oh io stavo cadendo oh mio dio eccomi papino sarebbe morta se fosse stata sola e quindi ah dobbiamo accipicchia era fortunata di essere viva e c'ha ragione sto qua quindi ci sta comunque narrando una storia il tempo non migliorò poi che alla bufera di neve ne segui un'altra eh porca miseria ok io proseguo eh che è successo no la bufera di neve ah ok poverina cosa guarda che voglio giocare io vabbè vabbè i messaggi ok non disse mai a nessuno della volpe era diverso dalle altre vai cammina papà ah ok stavo leggendo a partì che sono molto più veloci di te in effetti si vabbè comunque sono un animale vieni qui ok e continueremo per eh ma tu sei 4x4 io no premi veloci per arrampicarti ah e io wow e io non lo so aspetta che cosa è successo ah arrampicati sulla corda v ah ok ok e non ci stava la corda prima eh l'ho fatta cadere io forse ecco perché ho fatto il gioco di cooperativa se non lo so quindi il W per wow madonna mi sta spostando eh eh sì oh papà ah aspetta aspetti mettiti qui aspettiamo che arriva l'altro vento ah sì si arriva lo sa che non arriva però no no allora andiamo non so nemmeno come accucciarsi eh infatti magari come ripararsi da forse dobbiamo semplicemente trovare dei ripari ok oh attenzioni salto no ok siamo morti vabbè no attenziali ok resisti al vento oh come faccio control meno control l e control l e control ah l è la miseria come faccio ah ok io e vabbè ma dimmi come tu devi ti devi penso con la y o con la b vedi un po' sì con la b perfetto ok io riman ok aspettami wow ok anche se ci spossa un pochino lo stesso anche se sto scomodo nel senso eh sì gli assi sono abbastanza complicati aspetta aspetta no ah ah quella non muo ah stavolta ah stavolta non lo sappiamo notare no perché non ho visto le cose ho sbagliato il pulsante no ma prima non lo sapevamo notare o no ah sì all'altro sì invece stavolta ho fatto la scusa forse impara dopo non lo so non so come potrebbe andare perché oh mannazzo sono scema rifacciamo eh vai ok occhio al vento eh mi sbaglio coi tasti oh oh popi però piano piano ci riuscirò aspetta perché siamo solo all'inizio a lontani prendi un po' di prendi un po' di rincorsa vai ok l'abbiamo fatto mamma mia occhio al vento eh la fanzulla comprese che gli spiriti benevoli sono tra noi ok e sanno diversa quella volpe oh attenzione mostrò alla fanzulla mi dico ma quanto fossero magnifici quegli spiriti benevoli e quindi che devo fare mamma non lo so ah oh lo faccio muovere io salta fanzulla fanzulla in realtà ce ne sono altri opla aspettami sempre perché altrimenti non so come fa eh sì magari si muovono e poi tu rimani pregato ok ce l'abbiamo fatta oh qui la neve è alta opla ok siamo qui io ho sempre la L ah e salta ok aspetta ah e io adesso ho saltato due volte ah ok perfetto ah no ok ecco qui vieni vieni ora puoi saltare tu posso saltare? sicuro? vieni ok e sì si è abbassato quindi devi camminare no? non lo so ah forse aspetta di qua ah per andare ah ok puoi venire puoi venire oh ok la fanciola e la volpe si tennero cosa? lontane dai guai a vicenda infatti per bacco non so come ci riescono no ah e allora ricordiamoci sempre insieme si trovi sì ma proprio proprio quando dobbiamo saltare il vento quando è così allora prima non c'era però cioè ci deve stare eh lo so però quando senti il vento non si sente rispiamo le cuffie ecco ti fa la bufera vai attenzione allora aspettiamo ancora credo che no ecco l'ho visto? come ti fa scivolare? infatti sul ghiaccio pure non è che aspettiamo? io salto io no ormai era troppo tardi per me lo aspettiamo vai ti aspetto eh vai oddio non ha saltato mi sono messa una paura no ho sbagliato non si è agganciata però non è possibile che un pezzo all'inizio della storia la persona è ma scivoli hai visto? guarda come scivoli tu stavi sopra a quella a quell'iceberg ma era corto corto vai 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 ok gucciamoci ho capito però è bravo saltiamo sempre tranquilla vai 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 ancora ce la facciamo a quest'altro piccolo no vai vai oh accucciamoci ma arriva eh ora arriverà e si perché è arrivato prima e tu sei caduta dentro ma ma no vabbè vabbè ogni tanto va fa come vuoi ovviamente quando stavi là sopra ti ti manda via apposta e ti fa cadere non è tutto che salve e tu ma accucciati no no secondo me devi risposta qualcosa tu ho qualche spirito ah ok ah eccolo infatti ciao eh sì fate quello che volete lo devo far abbassarmi ok abbassati cosa sta facendo come fai sta facendo accucciare vieni qui aspetta aspetta se non sparisci quello no ok 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 vabbè rifà il percorso il percorso invertito aspetta qua eccomi qui se no poi non ci vedi vediamo ah sei arrivata ah sei arrivata questa dì occhio al vento eh eh sì se no non ci uccide come senti attenzione oh mamma mia oh mamma mia oh dove cavolo ti ha spinto no io ho saltato ecco perché ah ok era meglio che io non saltavi eh infatti devo rimanere così uuu 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 attenzione attenzione basta wow no perché io prima stavo cadendo tu invece sei saltato anzi sei saltato hai saltato mamma mia che italiano correzzuto mh oh qua il ghiaccio si corrompe eh oh ecco qui lo spirito oh mamma mia papà e ora come facciamo però io non so se ci arrivo sicuro ho fatto così attenzione uuu per fortuna giusto in tempo forse da qua da qua ok si devo fare abbassare gli spiriti però passano subito cavolo sto vento passa subito ancora un'altra volta il vento l'ho cliccato più io perché non funzionano i tasti se ne vanno pure loro vedi col vento vabbè qualche messaggino sul telefonino ok occhio per ma accucciati eh vado all'altro si possa andare ho qua delle sanno attenzione accucciati se non vai nel ghiaccio ok si è abbassato vieni ora accucciati eh si ci sono aspettati vai 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 approfittiamone che si sia un attimo calmato infatti qui ah saltella aveva visto oh successo che ci sta allora dobbiamo curare dove sta la bufera dove parte no ah il villaggio qualcuno ha distrutto il villaggio allora perché c'è del fuoco non è che il fuoco nasce così a caso in una parte così fredda ok la fanciulla arrivò al suo villaggio ah è tornato al villaggio ma era accaduto qualcosa di terribile poverina chi è il suo tizio brutto mentre lei era via era arrivato un uomo terribile sta distruggendo tutto stava cercando qualcosa nulla lo avrebbe fermato sicuro finché non lo avessi trovato e che stava trovando appunto cosa stava cercando no non c'è provare un vecchietto quello il villaggio fu totalmente devastato poverino era un vecchietto hanno ucciso tutti praticamente o se ne sono andati non lo so si dice che con ogni raffica di vento la neve in forma di polvere venisse soffiata in ogni direzione ok potrebbe esserci utile ma io direi che per questo primo episodio primo no però primo episodio della serie principale può bastare insomma abbiamo visto qualcosa la gente la stava mangiando ma io sono arrivato e ti ascia il mossa vediamo che succede siamo diventati compagni di avventura sono curioso che succede nel prossimo episodio veramente questo è bellissimo perché è proprio la partenza l'inizio del show poi adesso sono curioso sinceramente purtroppo però dovete aspettare fino a domenica prossima alle 10.30 vabbè aspettare fino a domenica anche se poi magari sicuramente lo giocheremo prima perché dobbiamo fare l'episodio però voi lo dovete vedere alle 10.30 di domenica prossima quindi io direi che possiamo fermarci con questo episodio lasciate un mi piace commentate e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.